La Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo vi invita a Tesori di Fattoria, decima edizione della mostra mercato e degustazione di prodotti tipici. Tre serate all'insegna delle produzioni agricole di qualità, tutte le sere le specialità della gastronomia teramana. Dal 22 al 24 luglio, dalle 20 a Giuliano Valido, Piazza d'Albazia, Corso Nazario Sauro.